Musica Bentornati e bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. Il campo di alta pressione che ora abbraccia la Spagna, l'Italia e tutto il Mediterraneo sta garantendo cieli più sereni su gran parte della nostra penisola. Durante il weekend qualche disturbo interesserà ancora nelle ore pomeridiane il centro Italia e le aree tra Sicilia e Calabria per correnti stabili in quota, ma sul resto d'Italia persisteranno condizioni di maggiore stabilità. Ma vediamo nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 24 settembre. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori di Puglia e Basilicata. Al pomeriggio qualche nube innocua transiterà sui cieli della Basilicata, del Foggiano e della Puglia centrale, più soleggiato su Brindisino e Salento. Le temperature non subiranno variazioni nelle massime, il leggero calo invece le menime, con fresco che si farà sentire soprattutto nelle prime ore della giornata. Venti deboli dai quadranti settentrionali, sia l'Adriatico che lo Ionio risulteranno calmi o poco mossi. Ma eccoci con il nostro consueto appuntamento la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Sergio De Filippo per il suo incantevole scatto, che immortala un fulmine con tutte le sue diramazioni, caduto sui cieli di San Nicola in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie.